Non puoi capire il profumo in casa. È il dolce perfetto per la colazione ma anche per la merenda. E se vai negli Stati Uniti di sicuro non può mancare nel piatto durante un brunch. Sto parlando del banana bread. Nasce durante il periodo della grande depressione negli anni 30 negli Stati Uniti. Proprio per non buttare le banane ormai troppo mature e per trovare un modo per utilizzarle. Prepararlo è davvero semplice. Non avrai bisogno né di fruste elettriche, tanto meno di planetaria. Vieni con me che ti faccio vedere, è semplicissimo. Inizia proprio dalle banane mature. Ne serviranno circa 3-4. Schiacciale con la forchetta. Poi aggiungi le uova, il miele e l'olio. E comincia a mescolare. In un'altra ciotola unisci tutti gli ingredienti secchi. Quindi la farina, zucchero, un pizzico di sale, lievito e bicarbonato e ovviamente la cannella che non può mancare. Io la metterei ovunque. A te piace? Adesso unisci i due composti. Mescola bene. E adesso come ultimi ingredienti, se ti piacciono, aggiungi noci tritate e gocce di cioccolato. Ora versa il composto in uno stampo da plum cake rivestito con carta forno. Aggiungo qualche goccia di cioccolato in superficie e delle noci per renderlo ancora più croccante. Ora in forno a 175 gradi per circa 50 minuti con forno statico. Mi raccomando, fai sempre la prova a stecchino. Se durante la cottura vedi che si scurisce troppo la superficie, aggiungi un foglio di alluminio sullo stampo in modo che si continui a cuocere all'interno senza cuocere troppo l'esterno. Questo dolce è buonissimo e puoi sostituire facilmente la farina 00 con un mix di farine gluten free adatte alle persone intolleranti a glutine. Così nessuno dovrà rinunciare a questa bontà. Ed ecco pronto il mio banana bread. Io lo lucido con della gelatina spray. In alternativa puoi spennellarlo con del miele o con della confettura di albicocche. Umido, soffice e dal sapore inconfondibile. All'interno puoi anche sentire la croccantezza data dalle noci. una vera squisitezza. E tu lo hai mai provato? Fammelo sapere nei commenti. Ciao!